Caprarica, Caprarica, l'Unione Europea ha bisogno di 3 milioni di nuovi innesti l'anno, 3 milioni di innesti l'anno, questi sono matti, questi considerano assolutamente, come dire, quasi un dato di fatto, abbiamo bisogno di milioni e milioni di immigrati, ma chi cazzo ve l'ha detto, ma che siete impazziti? L'Europa è un continente che avrebbe bisogno ogni anno di 3 milioni di nuovi innesti lavorativi per mantenere le condizioni attuali. E ovviamente combatte con il signor Giordano, signor Giordano che dà nel battaglio. La parola immigrati, demografia, eh? Avanti tutta Mario, l'unica voce presente tra radio e televisione. Insieme a questa trasmissione, l'unica voce libera, l'unica voce libera, dice il cazzo che gli pare, dalle sette e mezza alle otto, più o meno. Cala, cala. E' così ragazzi, dice quello che vuole, sicuramente dice quello che vuole, poi uno può condividere o meno, dai. 3 milioni di disoccupati, non possiamo avere bisogno di migliori. Ma non diciamo sciocchezze, non diciamo sciocchezze. Ci sono più immigrati, ci sono più immigrati dove c'è più lavoro. Gli immigrati sono serviti per fare concorrenza illegale, sleale, come dimostrano i grandi campi dell'immigrazione clandestina. Ci sono andati 500 sbarchi fantasma, veramente. Signori, allora, c'è un accanto con la Libia che ci piace? Informati, 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 ci sono stati, ci sono stati, no, no, a casa tua ci sono stati, informati.